andiamo a vedere chi c'è, vieni 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 vediamo se c'è mamma affacciata vediamo se c'è mamma vieni vieni vediamo se c'è mamma vieni 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 vediamo se c'è mamma di là dove sta andando pupi dove sta andando pupi dove sta andando dove sta andando dove sta papi guarda gli uccelli vediamo questo piano vediamo 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 Grazie a tutti.